Il Molino Novo di Nebbiù ha operato dalla fine dell'Ottocento fino al 1966, una storia secolare che la magnifica regola di Nebbiù vuole recuperare. Un mulino che venne costruito nel 1893, che aveva appunto funzioni sia di mulino che di segheria e aveva una caratteristica molto particolare e era un mulino all'avanguardia in quanto non era dotato di una turbina idraulica invece che della classica ruota. Il mulino rimase attivo fino al 1966, quando l'alluvione del torrente Russeco determinò la definitiva chiusura e da lì fu abbandonato a se stesso. Il recupero del mulino è un progetto importante, è un progetto che riguarda sia il mulino in sé ma anche quelle che sono le pertinenze del mulino, pertanto c'è la volontà del recupero del laghetto e di tutte quante le aree esterne e di pertinenza, anche per cercare di tenere vivo non solo una struttura ma un territorio col quale è sempre stato molto legato il mulino. L'idea nei confronti del mulino sarà quella di cercare di recuperare e di recuperare tutti quanti i macchinari esistenti l'ambizione più grande è quella di riuscire a metterli in moto e magari riuscire a farli funzionare non so, il fine settimana per cercare di anche dare dimostrazioni di quelle che erano le tecnologie dell'epoca e abbiamo poi il secondo piano del mulino che è una stanza che è stata utilizzata per varie funzioni durante l'apertura, cioè quando il mulino era in funzione e in questa stanza ci piacerebbe riuscire a creare una sorta di laboratorio culturale nel senso una stanza dove noi possiamo far conoscere comunque anche ai giovani che crescono quelle che erano la nostra cultura, fargli vedere come funzionavano, vedere come era la vita quando è stato costruito il mulino e poi con le stesse, con le proprie mani poter avere la possibilità di lavorare e conoscere i materiali e conoscere la vita e quindi un laboratorio interattivo.